Sassicaia che arriva andata al 25 di aprile, Sassicaia World Up, segnalo il 25 aprile 2022. Iniziamo con la prenazione del secondo netto, 33 punti Arianna Lenzi. Brava Arianna! Brava Arianna, perfetta, perfetta, vai! Che poi alla fine il tempo non è stato bello, ma nemmeno ha fatto una grande pioggia. Primo netto con 33 punti Gianluigi Gori Sareghi. Bravo, bravo Gianluigi! Perfetto, vai! E primo nel nord con 25 punti Paolo Vicadini. Bravo Paolo! Bravo Paolo! E dopo qualche anno sei tornato. Grazie a tutti!